Il Parkinson è una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata dalla progressiva perdita delle cellule nervose che producono la dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per il controllo dei movimenti corporei e non solo. Al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna già dal 2000 opera il centro Parkinson e dal 2015 ha sviluppato una rete di collaborazione con altri specialisti non neurologi che insieme a questi ultimi assistono i malati di Parkinson. Su queste attività sentiamo il direttore sanitario Mario Cavalli e la neurologa Maria Guarino. Presso l'unità operativa di neurologia del Policlinico Sant'Orsola è attivo dal 2000 il centro per il trattamento dei pazienti con malattia di Parkinson. Dal 2005 questo centro ha instaurato una serie di collaborazioni all'interno del Policlinico con specialisti di altre discipline creando una rete interna per la presa in carico, la cura, il trattamento dei pazienti. Dal 2011 anche attiva una collaborazione con un'associazione, una onlus, UILPU, è un rapporto di collaborazione che ha permesso l'attivazione di uno sportello che si chiama appunto sportello Parkinson gestito dai volontari dell'associazione stessa dove è possibile ascoltare e dare informazioni sia ai pazienti sia ai loro familiari su diverse problematiche che vivono i pazienti che sono affetti da questa patologia. È un centro che è nato diciamo dal 2000 qui a Sant'Orsola e che vede attualmente 600 circa visite all'anno per pazienti con patologia di questo genere. Dal 2005 abbiamo anche creato un percorso multidisciplinare all'interno dell'azienda per favorire il trattamento di tutte le problematiche del paziente parkinsoniano che non sono solo di tipo strettamente neurologico ma che possono poi interessare anche altri organi come disturbi urinari, disturbi di tipo cognitivo, disturbi di tipo depressivo e quindi abbiamo cercato di creare una collaborazione multidisciplinare per rispondere un po' a tutte le problematiche del paziente. Da circa due anni poi al Policlinico Sant'Orsola Malpighi è sorta l'associazione UAI ovvero We Help You che ha aperto uno sportello parkinson e realizza cicli di conferenze per i pazienti di loro familiari tenuti da esperti e specialisti coinvolti nella cura del parkinson. Lo sportello nasce dall'esigenza constatata che sia i malati che i familiari hanno bisogno di informazione, di un punto dove potersi incontrare e chiedere le informazioni e le assicurazioni. Da qui è nata l'idea di fare lo sportello grazie alla disponibilità dell'ospedale e del reparto del professor Cilignotta. Di tutto questo poi si è occupata la dottoressa Enrica Globa che è la nostra coordinatrice. Dare un sostegno psicologico non tanto ai pazienti ma anche ai familiari che spesso hanno bisogno più che i stessi pazienti dell'aiuto. Il sportello parkinson è promosso e gestito dai nostri volontari dove insieme in collaborazione con il centro disordini di movimento che hanno abbracciato questo progetto e l'hanno portato avanti insieme a noi. Abbiamo sviluppato una serie di incontri dove possiamo comunicare, dove possiamo indirizzare, dove possiamo ascoltare e soprattutto dire in quanto è complessa la malattia di parkinson e come possiamo gestirlo. Siamo riusciti a reperire 24 mila euro che abbiamo donato al reparto di neurologia qui all'ospedale Sant'Orso da Malpini che verrà utilizzato per la realizzazione di un corso nell'area psicologica di consulting e training del supporto dei malati. Attraverso il sportello parkinson abbiamo identificato i progetti che sono richiesti ai pazienti e possono aiutare. Sono i corsi di consulting psicologico e training di riabilitazione cognitiva. Per sapere di più bisognerò di questo sportello e man mano che avremo lo stato avanzamento dei lavori verrà anche pubblicato sui nostri portali e sui nostri punti web. Il nostro sito è www.vrpu.it e poi abbiamo la pagina Facebook e la pagina Twitter. Lo sportello parkinson si trova all'ospedale Sant'Orsola Malpighi, via Albertoni 15, padiglione 2, quarto piano, tutti martedì dalle 11 alle 13. Comuncare fiducia semplicemente con la voglia di vivere e con la voglia di aprirsi, di confrontarsi. Quindi lo sportello è nato proprio per questo, per permettere alle persone di avere qualcuno con cui parlare, a cui chiedere senza vergogna, senza remore. Semplicemente avere voglia di vivere e non avere paura di uscire allo scoperto.